Consolidato il formidabile apporto turistico dalle nostre spiagge, dei nostri paesaggi o dei nostri scrini d'arte, c'è un altro pezzo di identità pugliese tutta da raccontare e promuovere. L'enogastronomia è una leva che delocalizza e destagionalizza i grandi flussi turistici, che appaga maggiormente l'ospite locale e attira quello straniero, così affascinato dalle nostre tradizioni e i nostri sapori. In questo modo Puglia Promozione, in collaborazione con Identità Golose, lancia il ciclo di incontri dedicato a tutte le sei province pugliesi, in cui affrontare i temi complementari della gastronomia, a partire da quello della cucina, inteso come preparazione di recette e della sala, come arte dell'accoglienza. A ciò si aggiunge quello trasversale, che abbraccia i vari aspetti più strategici e gestionali dell'attività imprenditoriale. I relatori, tra i più autorevoli professionisti del settore, anche pugliesi, per portare alla ribalta le origini e la conoscenza del territorio, insieme a esperienze diversificate in campo nazionale e internazionale, tutto all'interno dell'Istituto Majorana di Bari. Chef stellati, addetti ai lavori, direttori di hotel, di hotel ovviamente 5 Stelle Lusso, che incontreranno gli alunni degli alberghieri di Puglia per spiegare, dar loro tutte le nuove notizie su quello che è il mondo del lavoro, come si sta evolvendo, anche alla luce di tutti gli eventi che ci sono stati, e soprattutto dare anche una panoramica di quello che loro incontreranno quando termineranno il percorso formativo nei nostri alberghieri. Impegnandosi può diventare anche una meta gastronomica, perché il problema della Puglia è che uno sta così bene, anche mangiando, fra virgolette, tradizioni o cose normali, e anche la sua scomodità fa sì che ogni tanto ti dimentichi quello che questa regione può dare. E allora facendo tutte queste serie di incontri, quello che faremo in futuro è rafforzare questa cosa, far venire la voglia alla gente di dire vado là invece che andare in Abruzzo o in altre parti d'Italia. Dino semplicemente due cose, due consigli.